Perciò quel successo che poi ha portato a mitizzare poi il personaggio di Moana è la seconda fase, è dovuta alla seconda fase, perciò non è legato al porno. No, la prima fase era quasi un personaggio da battaglia, un personaggio che entrava nel suo ruolo di porno star e basta. Nella seconda parte, in questa seconda parte diventa veramente un personaggio, un mito. Perciò come porno star lei non sarebbe diventata un grosso personaggio? No, 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 ma lei nella seconda parte appunto di questa, lei va in America a girare film, lei fa di tutto, lei addirittura conversava con i grossi personaggi della politica, da Fini a Berlusconi, con i quali sembra che abbia avuto anche delle storie, cioè quindi è una donna che ha avuto quello che volete. Qui ha detto sembra, prima invece hai fatto altri nomi dove parlavi di incertezza. Perché quelli già ci stanno delle storie. Qui ha perfetto. Questi sembra perché, tanto per dire uno, Fini ha confidato a John Vargas, il fumettista che ha fatto un film di fumetti su Moana, confidava, dicono che ci sia stata una storia. Beh, la conoscevo bene. Quindi questi personaggi, ma personaggi della politica, del Vaticano, se tu pensi che dopo tre giorni che lei era stata dichiarata morta al cardinale di Napoli, Monsignor Giordano, cioè il cardinale Giordano. Plurinquisito, Monsignor... Sì, però, a un certo punto, non entriamo... Michele Giordano. Dovremmo dire pure altre cose. Questo vescovo, arcivescovo di Napoli, dice dal pulpito, il giorno in cui lei è stata dichiarata morta il 15, il 17 è stata diramata la notizia, il 22 era il giorno del miracolo di San Gennaro, dove c'era il miracolo del sangue, che succede che questo cardinale dice alla nostra beneamata sorella Moana che dobbiamo consaccarla e sarebbe bello nominarla Beata. Quindi, Beata Moana o Beata in quanto una Beata, quindi nella casistica, nella classificazione della santificazione? Quindi anche Moana diventava santa. Forse perché aveva frequentato troppo l'ambiente Vaticano. Oppure, come dice il parroco di Lerma, quando... E come ne ha reagito in Vaticano a questa affermazione? Ai miei libri, dove appunto dicevo alcuni, rivelavo alcuni segreti. E presso il Vaticano, dopo questa cosa, c'è stato un omertoso silenzio. Classico. Perché nel libro stesso dice, nel suo, cioè quello la filosofia di Moana che ha fatto come... Dice pure che lei amava e aveva rapporti con alcuni sacerdoti, con un prete che tra l'altro gli regalava... Egli recitava Baudelaire, i fiori del male. Quindi, siccome Moana... Perciò il Vaticano ha fatto calare un velo omertoso, appunto, su questa... Ma era, anche perché era il fiore del male per il Vaticano. Bene, noi ci fermiamo ancora per un attimo, perché abbiamo la pubblicità che incombe, questa volta siamo precisissimi, proprio la linea passa alla regia per i nostri Matteo e Giuseppe, per la pubblicità. E dopo il GR, naturalmente, con le notizie d'autorità, torniamo invece a parlare di Moana Pozzi con Brunetto Fantauzzi e Loretana Bontai. Bene, Brunetto Fantauzzi, qui sulla nostra destra. Io volevo dirti, Brunetto, ma perché? Visto che da prima tu hai cominciato a snocciolare tutta una serie di prove documentali che tu hai, di cui sei in possesso. Però, quello che mi chiedo, perché Moana, a questo punto, bisogna, perché si è creato tutto questo mistero, perché nascondere un'eventuale morte di Moana? Questo dovremmo chiederlo ai familiari, e soprattutto perché non sappiamo cosa sia successo veramente. Comunque, quello che è strano è che il cadavere non l'ha visto nessuno. Però è stata cremata? Sì, aspetta. Però prima di essere cremato... È una morte annunciata, ma non dimostrata. Per cui, il cadavere non l'ha visto nessuno. Poi, ci dicono che è stata cremata. E qui c'è un altro giallo nel giallo, cioè, il suo corpo sarebbe stato cremato presso la ghigliotteria di Lione. E lì dentro, però, intanto per tre giorni non ha funzionato, questo benedetto inceneritore. Secondo, il 17 settembre del 1994, la madre dà per scontato e per avvenuto, uno, la morte di Moana, due, la sua cremazione, tre, lo spargimento delle sue ceneri al mare, quattro, la beneficenza dei suoi beni alle associazioni di solidarietà e soprattutto della ricerca sul cambio. Nessuna di queste quattro affermazioni ha trovato riscontro nella realtà. Anche perché, ecco, lo stesso spargimento delle ceneri al mare, perché Moana, sappiamo, no? Deriva da questo... il suo nome deriva dal punto più profondo del mare, che è un nome polinesiano. Allora, e quindi al mare. Invece, salvo poi affermare in un memoriale pubblicato dalla madre per un settimanale, che l'ha sparse sul cervino. Beh, guarda caso, l'atto francese. Dopodiché, quando qualcuno dice, ma guarda che sei sicura che tu hai fatto questo perché sei passibile di una incriminazione, dice, no, no, beh, interviene il figlio, il figlio, questo personaggio un po' strano, che non si sa se sia carne o pesce, se sia figlio, il nipote, lo zio, eccetera, il quale dice, no, l'urna con le ceneri di Moana sono nel cimitero di Lerma e lì al cimitero di Lerma sono in un punto che sappiamo noi perché non sappiamo più dove l'abbiamo messa, perché non c'è la croce. A questo punto i giornalisti chiedono al sindaco di Lerma, a Rata, ma come è avvenuto qui? Dice, intanto al sindaco di Lerma non risulta alcuna tumulazione, alcun trasferimento, alcun movimento cinerario, ma soprattutto c'è un problema di fondo. Le ceneri di una persona, l'urna di una persona, non possono andare in giro come un beauty case. Le ceneri sono la risultanza della cremazione di un corpo, per cui quel corpo deve viaggiare con tanto di regolamentazione, con tanto di prassi, e tutte queste prassi non ci sono state. Sembra che qualcuno vada lì, le prende, uno porta il corpo crematolo, quell'altro ritira le ceneri. Ma ci debbano stare pure un atto di regolamentazione. C'è un atto, qui c'è soltanto un registro. Nel registro c'è appuntato Anna Pozzi, anni 32, 19 settembre, ritirate dai familiari. 19 settembre già, è tre giorni dopo quello che lei ha annunciato. Quindi, non solo, ma lo stesso Dicesco, afferma nelle sue dichiarazioni a me, pubblicate nel libro, dice, io sono partito dal Lione, sono andato all'Erma, ho preso il figlio di Simone, con la madre siamo venuti a Roma, siamo stati dentro lo stesso appartamento, poi la mattina io sono ripartito. e la mamma ha pure sostituito le chiavi ed è andata a fare azioni di revoca nei miei confronti. A questo punto c'è un'altra cosa. Tu immagina questa madre che invece di essere addolorata, di pensare al dolore della figlia, che lei dice che è stata a fianco a lei per tutta la notte, con il rosario, con la corona del rosario in mano, questo famoso rosario rosa, e quindi che gli accarezzava i capelli, la pettinava e c'è, fino a quando arriva l'infermiera, la vede e dice, se è finito. E poi al tempo stesso corre sul cervino a buttare le cene, poi un pezzo la butta in mare, poi prende il figlio, viene a Roma, si presenta in tribunale, sostituisce. Quindi questa è una donna dinamica, la dobbiamo ammirare per questo. Cioè, malgrado il dolore. E non solo, ma guarda caso, di fronte a tutto questo, c'è un altro fatto. Lei dice, la mamma stessa dice, io per tutta la notte l'ho vegliata. E Dicesco? E Dicesco non stava, gli stava a pompare le bollicine dentro la flebo. E gli infermieri, i medici, dentro questo ospedale, questo era un albergo, sì, forse era un albergo, visto che Dicesco diceva, che la sera prima lui, mano nella mano. E studiamo le ultime dichiarazioni del punto di Dicesco, perché io, tra l'altro, come ci si deuxi,